Musica Hanno dei record per CISAL il 2010 che è stato chiuso con una crescita del 20% e sull'onda di questi buoni risultati anche la comunicazione prende vigore ma lo chiediamo al direttore marketing e comunicazione Michael Staskin per il 2011 cosa ci dobbiamo aspettare? Sempre in termini di comunicazione ovviamente In particolare per Supernalotto sarà un anno molto importante raddoppiamo più o meno il nostro investimento in comunicazione abbiamo lanciato recentemente una settimana fa le nostre campagne in tv abbiamo lanciato la settimana scorsa la fissione e oggi è partita la campagna stampa fra un paio di mesi arriverà anche delle cose su web, facebook e below the line Direi che in aprile sarà un mese molto interessante per Supernalotto da punto di vista prodotto e comunicazione Per quanto riguarda invece tutta la gamma di prodotti e servizi CISAL la comunicazione del 2011 cosa ci riserva? In generale aumentiamo le nostre pressioni di comunicazione quest'anno in particolare con il lancio di CISAL Win City a Torino che avverrà a breve ad aprile come abbiamo lanciato CISAL Win City a Milano e Roma l'anno scorso con comunicazione sul territorio, on convention, affessione e anche stampa locale Ecco quindi per la parte di Below the Line cosa ci state preparando? Per Below the Line abbiamo piani in corso in particolare per Supernalotto per quanto riguarda la nostra campagna di sogni dove raccogliamo i sogni degli italiani e chissà che uno di questi sogni non finirà come un nuovo spot di Supernalotto Però sicuramente finirà nella logica dei social network? Senza dubbi, noi abbiamo una fan page di Supernalotto con oltre 500.000 fan che è ovvio che vogliamo coinvolgerli in questa nuova campagna perché come dice il mio spot, i sogniatori si nasce e i migliori si diventano e con Supernalotto tutto può succedere Con Supernalotto tutto può succedere ma anche con CISAL nel senso che i partner in comunicazione di CISAL hanno un contratto che termina a fine anno C'è qualcosa all'orizzonte già di premeditato? No, tutti i nostri partner hanno contratti che sono triennale che finirà quest'anno però siamo molto contenti con i nostri partner Quindi è probabile che ci sia anche una riconferma Tutto può succedere Ringraziamo Michael Staskin per ADV Express TV Maria Ferrucci